Iniziamo le domande stile Iene. Allora, poi se vuoi la do io anche questa risposta, però dirla prima tu. La prima, seguire l'alimentazione secondo i gruppi sanguigni? Allora, è un tipo di alimentazione che non ha il fondamento scientifico, assolutamente. Infatti non c'è nessuna base scientifica, nessun studio scientifico che avvalora questo tipo di considerazione. Anzi, è anche pericoloso, proprio perché, come dicevamo prima, si vanno ad escludere dalla propria alimentazione determinati alimenti senza nessuna ragione e questo ovviamente priva l'organismo di importanti risorsi, di importanti molecole.